Il fine di questo percorso è quello di scrivere un racconto di 3.000 parole che non sono troppe, ma capiremo come agire su questo limite. Ci confronteremo su quello che è il soggetto, sulla caratterizzazione dei personaggi, su come portare avanti un dialogo, quindi su quelle che sono le componenti tecniche della scrittura. Lo faremo con un far pratico, io vi darò degli assegni, degli esercizi, sui quali poi ci confronteremo. Il fine è quello di capire e con quali strumenti aprire e chiudere il rubinetto della narrazione. Sono Alessio Forgione e vi do il benvenuto al corso online della Scuola Holden, la scrittura di un racconto. Grazie.